Allora, Piazza Garibaldi, la chiesa del cuore di Maria, la nostra madonnina del sacro cuore, guardate che schifo, sono in assoluto i giardini più maltenuti di Teramo, fanno veramente pena, il ritrovo di alcolizzati, di persone che fanno uso di droga e ovviamente di spacciatori, tutto il giorno non c'è nessun controllo dell'amministrazione comunale, è anche pericoloso, guardate qua, assolutamente nessun controllo, si ritrovano qui i nostri cari amministratori solo per la manifestazione dei caduti in asseria, questo è il ricordo dei ciclamini, molto belli, ma ovviamente guardate come sono curati, del 12 novembre, ecco come rispettiamo le nostre istituzioni, qui ovviamente altre bottiglie di birra, sporcizi ovunque, ecco la cartolina di Teramo, alle spalle, vi ricordo, Piazza Garibaldi.